E adesso vogliamo invece da FICO presentare il progetto webinar dalla Fondazione per la formazione su sostenibilità ed educazione alimentare e ambientale all'interno della piattaforma Digital Foodpedia. Il progetto dà la possibilità di poter far conoscere ancora di più il mondo di FICO e dei suoi prodotti attraverso anche il web, diventando una sorta di Wikipedia del cibo. Lo afferma con forza e determinazione il Presidente della Fondazione FICO Andrea Segre, il Professor Segre al microfono di Mario Giulianti. Abbiamo prodotto nel primo anno di attività talmente tanti contenuti in queste 500 e passe iniziative, abbiamo pensato di renderle disponibili non soltanto a chi viene e fruisce, visita questo straordinario parco del cibo, ma anche a chi sta lontano e può vedere replicate i contenuti importanti che ruotano ai temi che sono la mission di questo parco, l'educazione alimentare, l'educazione ambientale. Noi proprio vediamo questi due capitoli dell'educazione alla cittadinanza e vogliamo che si replichino in qualche modo. E' la piattaforma che Aspi Next ci ha messo a disposizione e tutti i partner che stanno collaborando al progetto, danno l'idea di un lavoro a rete che sfrutta nel modo migliore la rete. Conto riguarda la scelta del collaborare col Politecnico di Milano, è una scelta che avete studiato? Assolutamente, fra l'altro noi abbiamo costituito la fondazione FICO con i principali investitori a tema, le casse previdenziali, i medici, i veterinari, i biologi, i nutrizionisti e gli altri, e l'ASL e quattro Atenei, Bologna, Trento, Pollenzo e Napoli, il suo Rossola ben in casa, sono i partner universitari. Vogliamo allargare questa rete, il Politecnico di Milano ha questa straordinaria competenza e quindi siamo veramente molto contenti che siano entrati in questo progetto dove peraltro hanno più competenze di noi ed è per questo che sono con noi. E il progetto nasce proprio in collaborazione con il Politecnico di Milano, come avete sentito. Ascoltiamo le parole del curatore del progetto, il professor Luca Foi, ancora al microfono di Mario Giulianti. Il network di FICO è molto importante nell'industria dell'agroalimentare, il network del Politecnico sono contenuti, capacità progettuale, studenti, docenti e anche network di contenuti professionisti e Aspinex ha una struttura tecnologica per diffondere il sapere attraverso i webinar. Quindi siamo come dire, i tre uomini in barca hanno deciso di mettere insieme le loro competenze per ottenere un 1 più 1 più 1, 5 e non 3 giocando sulle rispettive competenze messe a regime e ottimizzate. Quindi faremo questi webinar sul tema del Wine System proprio per dare anche impulso al corso che abbiamo noi di alta formazione Wine System Design che tratta della formazione sulle problematiche che ha il sistema agroalimentare italiano in generale ma in particolare, per esempio, del sistema vino. Uno dei temi centrali sarà la comunicazione, in particolare l'identità e in particolare anche l'etichettatura. Infatti oggi abbiamo come sponsor sia Arconvert, leader delle etichettature più belle che abbiamo, e Epson leader della stampa delle etichette. Questo è il nostro corso learning and doing, cioè abbiamo un rapporto proprio anche con l'impresa fattivo e non solo teorico, anzi molto teoria e pratica insieme. Possiamo sottolineare magari appunto una sorta di Wikipedia del cibo, cioè nel senso una persona può entrare in questo contesto e conoscere un po' di più quello che il figo offre. Esatto, ci sarà un livello, appunto Wikipedia, che è aperto al consumatore, quindi al pubblico più largo, eccetera, e un settore di webinar che è aperto anche ai professionisti o tutti gli stakeholder che operano nella filiera del vino, quello che noi chiamiamo Wine System, perché è un sistema, non è solamente un prodotto.